Ehi, benvenuti ragazzi, io sono Cd, oggi vi do il prossimo episodio di Fortnite Troppo avvolto una volta, festa dell'antena di Fortnite 22, prova dell'antena Trials, le sfide di muta che chiedeva e il torneo e molto altro Oggi vi do queste due news Prima, Delta Plano Poni Diamante, disponibile ora in negozio oggetti News corta questa qua, come quella del discorso episodio Il Delta Plano Poni Diamante fa un ingresso trionfale nei negozio oggetti di Fortnite 2.4.2 L'antena di Fortnite, la meravigliosa sovrana delle terre e delle meraviglie, sua maestà reale, è arrivata nei negozio oggetti di Fortnite Risponibile per 1.200 Vibacca Poi da adesso, il Delta Plano Poni Diamante arriverà al tuo fianco e ti rilascerà cavalcare la sua scintillante groppa E mentre volate tra le nuvole rilascerà una scia arcobaleno Quel che ti immagini, la sprende, hai bisogno di sua maestà reale che farà scendere una lacrima di commozione Lanciati in battaglia, in sella, al tuo magico Bicorno Adamantino Seconda, l'ultimo episodio di oggi Fotografia Condividi la luce per la festa delle lanterne Altra news corta Cos'è sta luce delle lanterne? Fotografia Condividi la luce per la festa delle lanterne Ma è una festa che c'è nel mondo o è una festa di Fortnite? Perché c'è senza dire luce, lanterne 2.4.92 Dal team di Fortnite Ci sono diversi modi per celebrare la festa delle lanterne Uno dei nostri preferiti è decorare stanze, edifici e state con delle lanterne Per questa luminosa missione di Fotografia Ti invitiamo a visitare i luoghi dell'isla Dove sono state appena le bellissime lanterne A set map with in game lanterns In my image File name Fortnet Statino Lanter Statino Location Statino Lanter Statino Fest .jpg Image Alt Text Luoghi delle lanterne durante la festa delle lanterne di Fortnite Quando arrivi uno di questi luoghi Assicurati di catturare con uno screenshot Il tuo momento preferito della festa delle lanterne Condividi su Twitter usando l'hashtag Hashtag Lantography22 Entro le 5.59 del 9 aprile Pubblicheremo i nostri scatti preferiti In un post sul blog E i fotografi riceveranno un codice Con cui riscattare la magnifica emoticon Cambio a bisogno del tuo bottino Asset Lantography Emoticon Image File name Forte Trattino Cameo Trattino Niz Trattino Lut Trattino Bus Trattino Emoticon Punto JPEG Image Alt Text Emoticon Cameo Ha bisogno di bottino di Fortnite Per tutti i dettagli e requisiti di idoneità Consulta il regolamento ufficiale del concorso Fotografico Feste delle lanterne Ok ragazzi Così vi ricordo che La guerra tra Russia e Ucraina E quindi la Epic Games In sé con Fortnite C'è il supporto Tutti i costi di umanità in Ucraina Niente Quindi Niente Così ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Se mi raccomando Lasciate un bel piacere Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Seguitemi su Instagram Che ho c'è la cd Di G-Tramasso-Y Di G-Tramasso-Official Ragazzi Mua Un bacione È il vostro cd Di G-T È tutto Per ragazzoli Ciao Ciao